Io mi chiamo Pericol Scalzone. E di mestiere faccio il culo alla gente. Perché l'hai ammazzata? Faccio come un'altra nuovaia. Quella è la sorella di un coltiere e noi la dovevamo proteggere, capito? Adesso sai che puoi fare? Scompara, levati di mezzo. Luigi, ma io che dovevo fare? Tu non dovevi provi a lasciare. Un po' di volte. Un po' di volte. Un po' di volte. Il vi si metto? Perchogono l'impianto un case? Perché io oppure gli effetti che ti ti è bella amorosi me. Potenzi io stavo solo dentro da casa di una garota. Però molte volte mi sono immaginato che anche io potevo tener una famiglia. Così per gioco, accompagnare le figli alla scuola, mirando le faccia di mia moglie, delle bambini… Qu'est-ce tu ti ti miso dans la tête ? Tu crois qu'on a fondé una famiglia ? Sous-titrage ST' 501